Un altro caso di violenza tra le mura domestiche si è verificato a Gela. Vittime di un padre e un marito violento, due donne che sabato sera sono state tratte in salvo dal loro aguzzino Emanuele Famà, 43 anni, grazie all'intervento di una pattuglia dei carabinieri del reparto territoriale della città del Golfo, che hanno così tratto in arresto l'uomo, che si trova ora rinchiuso nel carcere di Contrada Balate per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate su un minore. Un arresto che si è reso possibile grazie alla segnalazione della moglie di Famà, che ha chiesto ed ottenuto l'intervento della pattuglia dei carabinieri. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l'uomo avrebbe colpito con il manico di una scopa la figlia alla schiena, oltre a prenderla a ceffoni. La donna, resasi conto che l'uomo era completamente fuori controllo, ha cercato di proteggere sua figlia, subendo così lo stesso trattamento. Fortunatamente madre e figlia sono riuscite a barricarsi all'interno di una stanza e a contattare con il telefonino i carabinieri. Giunti nell'abitazione delle due donne, in via Magellano, i militari riuscivano così a bloccare prontamente l'uomo, che nonostante la loro presenza continuava di vincolarsi e anveire contro la moglie e la figlia, minacciando di compiere una strage. Anche mentre i carabinieri gli mettevano le manette ai polsi, l'uomo non è riuscito a calmarsi e a capire la gravità della situazione, continuando così a scalciare e rompendo anche dei vasi presenti all'interno dell'abitazione. Alla base del folle gesto compiuto dall'uomo, che a quanto pare abusa di alcol, la richiesta della figlia di uscire con alcuni dei suoi amici. Non si tratta del primo episodio di violenza per Emanuele Famà, denunciato a fine luglio dalla moglie per i maltrattamenti subiti.